Anticipazioni tempesta d'amore. Mercoledì 2 giugno 2021. L'albergatore è a pezzi dopo aver ricevuto un video da parte dei sequestratori dove si vede chiaramente il figlio legato e privo di forze. Vanessa tornata a Big Lane dopo essere stata fuori per le gare di scherma è molto motivata a migliorare la sua formazione. Quando il suo nuovo collega il fitness trainer Max la invita a un appuntamento lei lo trasforma rapidamente in una sessione di allenamento. In tal modo però la ragazza ignora il dolore al ginocchio destro. Michael e Max il giorno seguente si conoscono meglio e scoprono di avere una passione in comune quella per la mountain bike. Più tardi il dottore scende a fare colazione e sorprende Rosalie flertare con il nuovo arrivato. Quale sarà la sua reazione? Franzi è disperata per il rapimento di Tim ma non ha alcuna intenzione di mollare vuole ritrovarlo a tutti i costi. Così si serve di tutti i canali per mettersi sulle sue tracce e distribuisce volantini tutto il giorno. Un indizio la porta realmente a rintracciare il suo nascondiglio. La giovane riesce a liberarlo ma un tratto il degen cade a terra e sviene. La giovane riesce a liberarlo ma un tratto il suo nascondiglio.